In un anno 635.000 gli incidenti sul lavoro, quella tragica dei morti è una sequenza ormai quasi quotidiana. Lo scorso anno a perdere la vita sono state oltre 1.000 persone, secondo INAIL e Osservatorio Indipendente di Bologna. Tre morti ogni giorno, questo è un dato che una società civile come la nostra non può accettare. Questo primo maggio CGL e CISLWI hanno dedicato la festa dei lavoratori alla sicurezza sotto accusa ai mancati controlli. Una mancata presenza sul territorio da parte dei controlli degli ispettori. Lo dice la Commissione europea in una comunicazione del gennaio 2017 che laddove ci sono più controlli c'è anche una riduzione del tasso degli infortuni. L'incremento nel primo trimestre 2018, sullo stesso periodo dello scorso anno, rileva l'INAIL di oltre l'11% concentrato nelle aree più produttive del paese, più 40% nel nord-ovest, oltre il 20% al nord-est e al centro. Il settore più colpito resta quello delle costruzioni, dove lavoro nero e appalti e subappalti al massimo ribasso la fanno da padroni. Trasporti, servizi e metalmeccanica agli altri settori, senza dimenticare l'agricoltura. Bisogna potenziare un'attività di prevenzione che è fondamentale per, io dico, portare il rischio a tassi vicini allo zero.